Per la prima volta, dopo cinque settimane di ascesa, l'RT tende a diminuire e si fissa di poco al di sotto di uno. Così come anche l'incidenza, che però rimane elevata, intorno a 340 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda invece il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, c'è una tendenza ad una lieve diminuzione anche se si resta intorno alla soglia critica. Ciò vuol dire che le misure di contenimento e restrizione hanno funzionato e che bisogna pertanto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione, ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie.